Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video In un nuovo video Su Roblox Oggi stiamo su questo gioco Della pizzeria Poi vi metterò il link in descrizione Se vi va di provarla anche voi Accimentarvi in questo gioco La cosa bella di questo gioco E' che è un italiano E si possono trovare tanti italiani Tipo il mio amico qua Ciao Siamo in video Ci viene Quanto basta Allora Che tipo di pizza vuoi Ah quell'altro Ma dai Stavo parlando con questa Ma sono gemelle Aiuto dei gemelli Sono gemelle Cosa sta facendo Ehi De video Arrivano Dai Dai vattene Lasciatemi cucinare So fare le pizza Benissimo Sono italiana Sono italiana Se non sapessi fare la pizza Sarebbe un dramma Almeno credo Voi cosa dite Sono andato Sono andato Io dovrei fare il manager Ok proviamo La manager E mettiamo qualcuno Che se lo merita Posso darti Posso darti Metto il cuoco Wow Rappaga Salve Dimmi Quando sei pronto Ad ordinare Che bello Quando siamo Ci sono un pari Di italiani In game Peperone Salsiccia Nessuna Delle due Quando sei indeciso Scegli da uno Dell'altro La fine Scegli Quella che L'ha fuori Dall'opzione Ah E un attimo Ok Perdonato Salsiccia Tu cosa vuoi Ti piacerebbe Assaggiare La nostra pizza Al peperone Giusto per far diventare Rosso Come un peperone Salsiccia A peperone Vivite Anche questo Addirittura Salve Vendiamo pizza E vivite Come se non fosse Chiaro La sua Used Despite non Questa La Alguna Non 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 Questa andiamo ad aiutare così vi mostro anche un altro bel lavoro da fare qui costruire delle pizze come giusto che sia la mia casetta guardate prego passi pure ok serve il cibo scatole stavo schiacciando con il scatole tante scatole tante scatole da rompere servono ok vediamo il cambio anche se sono un manager posso far tutto come sarebbe giusto dare una mano ai suoi dipendenti eccoci qui cosa vuoi ok scatole bianco un po' di bianco tanto bianco ma tu là dietro c'è fra quello prendiamo anche un po' di pomodoro un po' di tutto così wow tanta roba forse sta tornando si c'è rumore buon lavoro davvero sono solo una non so non so a fare ci sono tanti youtube che sono molto più di me non c'è coppia così invoca mi sto bloccando ok così no poi cosa stai facendo ma perchè accidenti arrivo a pistofè forno perchè ti sei buttato nel forno non è francesi Sì. Sì. Che è qui va? Oh no. Sì. Va bene. Per oggi direi che ci fermiamo qua. Carine. Qualche cosa matta. Ho ricevuto i soldi. Ho ricevuto paga. Sì. Realmente. Grazie a tutti di essere stati in compagnia. Il video è piaciuto. Lasciate un mi piace. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Stare ancora in compagnia. Sì. Ciao. C'è un po' di me Mi nasce a c'è un po' di me Ciao